Tragico schianto che è accaduto poco prima di mezzogiorno lungo l'autostrada 14 dove due anziani residenti a Como hanno perso la vita. Si tratta di Mario Ceccorullo e di Fiorangela Bicamillo, entrambi di 81 anni. I due coetani erano a bordo di una Suzuki quando, nello svoltare verso l'area di servizio Foglia S tra Fano e Pesaro, sono andati a schiantarsi contro la cuspite del guardrail che divide l'ingresso riservato ai camion da quello per le pompe di benzina. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Pesaro con tre automezzi, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione settimo tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Nonostante i vari tentativi da parte dei sanitari per gli anziani non c'è stato nulla da fare. Sul corpo del conducente è stata disposta l'autopsia anche per verificare se l'uomo fosse stato colto da un malore. Per consentire l'intervento dei soccorsi l'area di servizio è stata temporaneamente chiusa ma la circolazione non ha subito conseguenze.